Salve a tutti ragazzi, sono N1001, oggi ci troviamo su una missione importante Dobbiamo conquistare delle stazioni radio Che ovviamente sono sotto controllo dei nemici Adesso io assieme alla mia squadra stiamo procedendo ad andare Ecco qua, siamo nel nostro capolinea con il veicolo Adesso dobbiamo fare a piedi Ok scendiamo, ah sono sceso Adesso dobbiamo seguire il capo Dove raggiungeremo il check dove ci sono i nostri alleati ad attenderci E poi dovremo attaccare quelle stazioni radio Lì in fondo si vedono delle sagome, sarà sicuramente la seconda squadra ad attacco Qui dietro ci sono i miei alleati, stiamo camminando in colonna Ma comunque siamo vicini al nostro check Ok qua ci sono i nostri alleati Adesso dovremmo procedere, ma chi sono quelli? Capo li vede anche lei? Io non vedo nessuno Continuiamo a procedere Sì va bene, sì signore Vabbè continuiamo Credo che saranno alleati i nostri Anche se mi sembra strano, visto che qui è un settore nemico Aspetta Poi li sono nemici Dobbiamo posizionarci Ci sono nemici Io sono un fucile di supporto quindi Posso sparare tantissimo Ok ingaggiamoli Dai che facciamo una strage Ok non ce l'aspettavamo il loro arrivo Sicuramente vogliamo attaccare la città di Moloss Cerchiamo di passare in un punto molto più favorevole Vediamo se c'è qualcuno Passiamo per di qua Dove sono i miei alleati? Sono qui Passiamo avanti Continuo io a sparare Lì c'è qualcuno? Sì dovrebbe esserci qualcuno Faccio un po' di soppressione Sono di distanza almeno 300 metri Sono lontanissimi ma possiamo farcela Ok abbiamo raggiunto questo punto Adesso eliminiamo i nemici che ci sono Eccoli ce n'è uno Muori La valizione è scappato Ah è ferito però L'ho colpito quindi Ok Dobbiamo avanziamo Un po' complicato Minimo 400 metri Questo è sicuro Se n'è andato C'è un uomo lì Il capo mi ha indicato c'è qualcuno Io lo devo ingaggiare Vediamo Qui sì c'è un villaggio Quindi ci sarà minimo un soldato nemico Quindi andiamo a controllare personalmente Eh c'è qualcuno che spara Stiamo attenti Qui c'è qualcuno Proviamo ad entrare in questo edificio Ci mettiamo qui Posizionati Ecco Vediamo se c'è qualcuno Almeno assicuriamoci Vediamo Perfetto Non c'è nessuno Quindi ci siamo riusciti ragazzi Dopo un po' di sparatori Almeno ho fatto tantissime uccisioni all'inizio Perché appunto sono un fuciliere di supporto Quindi ho tantissime munizioni Da utilizzare contro i nemici E quindi dopo averli eliminati tutti Con il mio fucile Siamo riusciti ad avanzare In modo molto minaccioso Contro i nemici Adesso dovremmo prendere le stazioni radio La squadra secondaria d'attacco Prenderà questo E la mia squadra Prenderà questa altra antenna Quindi andiamo Controlliamo la mappa Ci siamo riusciti ragazzi Abbiamo preso questi settori Perfetto Siamo riusciti ad avanzare Da qui che eravamo Siamo riusciti a prendere queste stazioni radio Che ci serviranno in futuro Anche per comunicare con i nostri alleati Che avanzeranno Che posso dire ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto C'è stato un po' di combattimento Per avanzare Ma in fondo ci siamo riusciti Spero appunto che il video vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi attivando la campanella E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao